Buongiorno ragazzi, oggi continuiamo il nostro discorso sul fascismo e affrontiamo la fase che va dal periodo della legalità alla dittatura. La scorsa settimana abbiamo visto il periodo che va dal 19, quindi dalla creazione dei fasci di combattimento ai fasci di Sansepolcro a Milano nel 23 marzo del 19 fino alla marcia su Roma nel 22 e poi all'incarico che il re Vittorio Emanuele III dà di formare il governo a Mussolini. Bene, quindi a partire dal 22 fino al 25 parliamo di questa fase cosiddetta della legalità legalitaria. Allora, il primo governo Mussolini, quindi quello che va dal 22 al 24, fu sostenuto naturalmente dai fascisti, dai liberali, quindi dalla classe politica a cui apparteneva Giuditti, e poi fino al 23 dai popolari, cioè quelli che aderivano al Partito Popolare Italiano fondato da Don Luigi Sturzo. In questi due anni di fase legalitaria, quindi Mussolini agì nel rispetto della legge, anche se già da subito le squadre fasciste continuarono la loro attività e anzi si organizzarono in una vera e propria milizia, che si chiamava Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, e diventò una sorta di braccio armato del partito fascista. Ecco, però c'è un fatto che abbiamo, se avete già visto le slide di Pirandello, avete già sentito. Se invece guardate prima la storia, le sentirete per la prima volta. Il 6 aprile del 24 ci furono delle nuove elezioni, e queste si svolsero in un clima di assoluta violenza e di illegalità, poiché a molti antifascisti fu proprio impedito di andare a votare. Ai seggi le squadracce fasciste impedivano a chi sapevano che avrebbe votato contro il partito fascista di votare. Nonostante ciò, le opposizioni comunque continuarono ad avere un posto in Parlamento. Il 35% dei voti naturalmente andò alla maggioranza, alla lista fascista. Cosa succede però? Il 30 maggio, quindi poco dopo le elezioni, il deputato socialista Giacomo Matteotti si presenta in aula alla Camera dei Deputati e pronuncia un discorso molto coraggioso, perché era ben consapevole di quello a cui stava andando incontro, in cui denuncia le gravissime irregolarità che erano avvenute durante le elezioni e chiese alla Camera dunque di annullare le elezioni. Dieci giorni dopo, il 10 giugno, Matteotti fu rapito e assassinato da sicari fascisti. Il corpo verrà poi trovato solo il 16 agosto, quindi un giorno dopo Ferragosto, in un bosco vicino a Roma. Da subito apparve chiara la responsabilità di Mussolini e dei suoi collaboratori. Cosa succede? I partiti antifascisti per protesta abbandonarono il Parlamento e si riunirono in un'altra aula. Questo episodio viene ricordato come l'episodio dell'Aventino, perché Turati citò appunto il colle sul quale la plebe si era riunita ai tempi di Menegno Grippa, quindi parliamo del 500 a.C., l'epoca di Tarcunio Superbo, quando ci fu la prima secessione della plebe. La plebe per protesta appunto nei confronti del modus operandi dei patrizi si rifugio sul colle di Roma, uno dei sette colli di Roma che è l'Aventino. Ecco, in ricordo di questo episodio i partiti antifascisti se ne andarono, si divisero dal Parlamento in un Aventino che viene chiamato Aventino delle coscienze, cioè effettivamente non è che se ne andarono sul monte, ma fu una scelta metaforica che si rivelerà poi assolutamente sbagliata, non serviva a nulla, perché il partito fascista continuerà, Mussolini continuerà a lavorare anche senza, anzi senza l'opposizione appunto dei parlamentari. Guardiamo questo breve strato sempre di Atlantide, avete già visto la scorsa volta il documentario sulla fase del 19 al 22, ora vediamo sempre Antonio Scurati, uno scrittore che ha scritto appunto un romanzo sul Mussolini, sul fascismo, che conosce bene nel dettaglio tutte le vicende, ci parla dell'assassinio di Matteotti. Antonio Scurati, è da questa bottiglieria che partono gli arditi che poi sequestreranno e uccideranno Matteotti? Tutti gli uomini che sequestrano sul Lungotevere a Roma nel giugno vengono da qui, partono esattamente da questo luogo, perché quando nel 24 Amerigo Dumini, che era uno squadrista toscano, che serviva, era il capo della ceca fascista, di questa, diciamo, organizzazione segreta che presso il Ministero dell'Interno faceva il lavoro sporco, andava a manganellare o a far fuori gli oppositori del regime, riceve l'incarico, probabilmente da Marinelli, il tesoriere, che si trova ad assistere a una delle sfuriate di Mussolini contro Matteotti e con lo zelo degli inetti, dei fessi, interpreta quella sfuriata di Mussolini come un preciso mandato a uccidere. Quando Marinelli dice a Dumini, il capo è infuriato, dobbiamo togliergli di mezzo Matteotti, Dumini cosa fa? Telefona qui, al covo numero uno, perché gli uomini più violenti e più fidati erano gli additi e i fascisti della Primora, che partono in quattro da Milano e Albino Volpi, che era il capo di tutti loro, prende tre uomini infidati, con dei nomi che sembrano romanzeschi, Poveromo, Malacria, anche un romanziere non li avrebbe potuto inventare se avessi voluto, questi partono e vanno a sequestrare Matteotti. Uno degli enigmi risolti e che lo rimarrà per sempre di questo periodo della storia fascista è proprio questo. Mussolini ordinò esplicitamente a Dumini o a qualcuno sopra di lui di prelevare e uccidere Matteotti, non lo sapremo mai. Certo è che dopo l'ultimo discorso coraggiosissimo denuncia di Matteotti in Parlamento, Mussolini uscì infuriato e di fronte a più di un testimone, di pochi accoliti, protestò dicendo che è assurdo che quest'uomo circoli ancora. Però tu tieni conto che di queste sfuriate Mussolini le faceva abitualmente, i suoi stretti collaboratori sapevano che faceva parte del suo temperamento e poi spesso rientravano. E qui allora non si capisce perché poi invece proprio con Matteotti le cose vanno così avanti. È un'ipotesi che è accreditata da alcuni storici che io faccio mia nel romanzo e cioè che a questa sfuriata, come ti dicevo, abbia assistito il più stolido, il più fedele, il più cieco, il più canino dei suoi servi, cioè Marinelli, il tesoriere, che vide l'occasione di appunto di essere più realista e di fare un grande regalo al capo non solo, ma comandando lui, uomo di conti, di uomini della guerra e quindi diede ordine a Dumini di organizzare il sequestro e il delitto di Matteotti. Mi raccomando a te, Amerigo, lavorate con il cervello, gli altri ne hanno così poco. Sono abbastanza io, non ti preoccupare, Marinellino. No, guarda qui. O Taravella. O che ci fai, eh? E tu ricevi certa gente, Marinelli, nel tuo sacrario? Tu lo conosci questo figuro, eh? Dumini e Amerigo. Otto omicidi. Mussolini sembra spiazzato un po' da quello che succede, il che confermerebbe, diciamo, una sua estraneità, perlomeno rispetto all'ordine di sequestrare Matteotti. Mussolini è sconvolto, è sconvolto e su questo abbiamo testimonianze, dalla brutalità, ma dalla stupidità del modo in cui è stato organizzato il sequestro e poi il delitto. Lui non conosce i dettagli, questo è certo. E i dettagli sono raccapriccianti da un lato e sorprendenti per l'inadeguatezza di questi buchi, che si comportano come dei balordi. Probabilmente non devono neanche ucciderlo nel piano originario. Questo è un altro interrogativo a cui non ci sarà mai una risposta. Allora ci sono alcuni elementi proprio fattuali del delitto che fanno pensare che non fosse prevista l'uccisione. Per esempio... Far sparire il corpo, no? Far sparire il corpo. Questi vanno in cinque in un'auto di grossa cilindrata, si appostano, aspettano Matteotti, lo rapiscono. Fra l'altro la cosa... Si fanno notare. Si fanno notare, ma lui combatte. Lui è uno contro cinque. Questi sono uomini della violenza. E lui resiste, scalcia, combatte. E alcuni ipotizzano che quella coltellata lì nel costato, datagli probabilmente da Albino Volpi in maniera estemporanea, fu dovuta al fatto che Matteotti... Non riuscivano a tenerlo. Non riuscivano a tenerlo. Spaccò il finestrino a calci e riuscì a gettare il suo tesserino da parlamentare come in un film d'azione sul lungo Tevere. Questi lo portano fuori Roma, girano tutto il giorno, non avevano un luogo dove seppellirlo. Quindi sembra molto improvvisato. Alla fine trovano questo macchione nell'agro romano, vicino Oriano, e scavano la fossa con una lima che trovano nel portabagagli, perché non hanno neanche una pala. Questi sono dei dettagli, tant'è che poi la cagnetta che scavando lo troverà è perché la fossa l'hanno scavata male. Tra l'altro l'hanno scavata troppo piccola. Hanno dovuto piegare in due il cadavere di Matteotti perché non ci stava dentro, con poca terra sopra. Allora ti viene da pensare, ma comunque dei professionisti della violenza, degli squadristi collaudati che organizzano un sequestro per un'uccisione, non hanno un luogo di sepoltura e non hanno gli strumenti per seppellirlo. D'altro canto è certo che in quel momento Matteotti non era l'arci nemico del fascismo, era l'ultimo nemico che coraggiosamente si alzava in piedi in pubblico a denunciare i crimini fascisti e che avrebbe quasi sicuramente denunciato anche una maxi tangente, diremo noi oggi, la corruzione del regime legata a delle concessioni petrolifere per le quali lui era andato a rifornirsi i documenti a Londra e che nel suo intervento parlamentare successivo avrebbe denunciato a tutti. Tra l'altro una tangente enorme che passava attraverso la famiglia Mussolini, il fratello di Mussolini e quindi la volontà omicida da un lato è quasi ovvia, ma dall'altro alcuni dettagli. Lui era già scampato a un sequestro, rapimento, punizione. Tu pensa il coraggio e l'audacia di quest'uomo. Lui era già stato sequestrato dagli squadristi della sua terra perché lui era polesano, amatissimo dai contadini del Polesine e lui lì era stato sequestrato nel 1921, prelevato proprio nella piazza del suo paese, condotto nelle campagne e seviziato per ore dagli squadristi locali. Pare anche, si disse all'epoca, anche con sevizie sessuali, questo non è accertato ma circolava questa leggenda e poi è scaricato davanti al bordo di una strada. Dunque il delitto Matteotti può essere considerato la definitiva perdita dell'innocenza per il fascismo? Sì e no, nel senso che il fascismo aveva mostrato, come io racconto, il suo volto brutale e violento fin dal primo giorno. Quando questi arditi, questi squadristi sequestrano in strada, in pieno giorno, nel centro di Roma, un onorevole, un parlamentare e il paese che si era assuefatto alla violenza fascista è percorso da un brivido di autentico orrore. Il fascismo viene rigettato, non si vede più in giro uno con la spilla fascista, Mussolini si ritrova da solo nei suoi uffici. Ecco, quello è veramente il momento in cui Mussolini è su un crinale, basterebbe un nulla per farlo precipitare e D'Annunzio in quel momento potrebbe essere l'uomo che lo fa precipitare ma non lo fa. Basterebbe che D'Annunzio parlasse. D'Annunzio in una corrispondenza privata con un suo amico in quei mesi definisce il delitto matteottico, nel suo linguaggio aulico, una fetida ruina, cioè una porcata, una porcata, uno sfacelo fetente e molti, anche nazionalisti, anche di destra, anche i suoi legionari, anche ex combattenti aspettano che D'Annunzio finalmente parli perché lui è l'unico uomo in Italia che ha il carisma presso tutta diciamo la destra per poter scalzare Mussolini. Perché non lo fa? Non lo fa innanzitutto perché è un uomo finto. L'ultimo suo a grande impresa, l'ultimo suo ardimento l'ha compiuto a fiume tre anni prima, da allora si è ritirato a Gardone, ha cominciato a vivere nel culto e nel ricordo di se stesso. A occuparsi di D'Annunzio. A occuparsi, beh quello l'ha sempre fatto. Però insomma diciamo che lì proprio si chiude. Ha del cadavere di D'Annunzio, lui erige questo sorta di mausoleo a se stesso e esige per sé degli onori che di solito, per sé vivente, che vengono tributati solo ai morti. E poi va detto che cerca soldi come sempre, cerca da Mussolini finanziamenti per il vittoriale, finanziamenti per l'opera omnia. Sempre. E poi l'ha detto che i fascisti sono in buona misura suoi figli, nel senso che una parte degli slogan, dei motti, dei gesti estetici, anche dell'idologia dei fascisti sono D'Annunziani. Tantissime cose, a cominciare non so da eia, eia, la la, tutte queste cose qui, nudi alla meta, chi si ferma, sono tutte frasi di D'Annunzio. E lui però, il suo estetismo egoista, più che indignato dalla violenza e dalla brutalità dei fascisti, è indignato dalla cattiva imitazione che fanno di lui. Lui vede in Mussolini non un, che ne so, un futuro dittatore, vede un emulo indegno. Chi altro, oltre a D'Annunzio in quel momento, avrebbe potuto dare, diciamo, la spallata a Mussolini? Gli oppositori, gli aventiniani. Cioè l'opposizione parlamentare dei vari gruppi sociali, che è socialisti, socialisti unitari, liberali, democratici, decide questo gesto di protesta. Dice, noi usciamo dal Parlamento e ci ritiriamo simbolicamente sull'aventino, finché non sarà ripristinata la legalità in questo paese. E da chi si aspettano il ripristino della legalità? Dal re. Molti dei quali, molti di questi, sono repubblicani. Il re li teme, il re arriva a pensare che perfino Mussolini, i fascisti, perfino nella loro manifestazione più brutale, siano una maggior garanzia della sopravvivenza, della dinastia, che non quelle bravissime persone, colte, degne, che lui conosce personalmente, che però sono leader di partiti progressisti, molti dei quali sono repubblicani. Senti, però, appunto, chiudiamo questo discorso su Matteotti, sottolineando che la responsabilità morale e politica è però di Mussolini. Senza dubbio alcuno, senza dubbio alcuno, non solo, ma quando Mussolini viene informato del sequestro e dell'assassinio di Matteotti e delle modalità brutali con cui è stato compiuto, lui arriva ai massimi punti di bassezza morale umana della sua carriera, perché lui, pur sapendo tutto, già il giorno dopo mente spudoratamente di fronte al Parlamento riunito, lamentando la sorte del parlamentare scomparso, dicendo che farà tutto per ritrovarlo e incontra perfino alla vedova in una scena drammatica che io racconto nel romanzo, la quale, disperata, ormai sospettando la fine del marito, come tutti la immaginavano, gli chiede che le venga restituito almeno il cadavere e Mussolini trova il coraggio di mentire anche di fronte la vedova dicendo faremo di tutto per restituire vivo suo marito. E poi pensa, questo è uno degli elementi della dietrologia secondo me più plausibili, conoscendo il carattere degli italiani, il ritrovamento del cadavere che pare avvenga in maniera casuale attraverso la scagnetta che scava la posa. Evidentemente qualcuno fa in modo che ci arrivi, questo cane insieme al brigadiere lì che lo trova. E quando, qual è il momento, lui viene sequestrato e ucciso nel giugno, qual è il momento migliore in questo paese per far passare, diciamo, sotto silenzio? L'estate. L'estate è più precisamente. Agosto. È più precisamente. Perragosto. Bravo. Quando ritrovano il cadavere di Matteotti è il 16 di agosto. Quindi avete potuto sentire da Antonio Scurati e dal presentatore del programma Andrea Purgatori come avviene la vicenda, come si svolge la vicenda del delitto Matteotti. Quindi la responsabilità civile e morale del delitto è da attribuirsi sicuramente a Mussolini, anche se sappiamo che Mussolini non uccise lui in prima persona Matteotti. Comunque il delitto Matteotti viene considerato dunque uno spartiacque tra il periodo legalitario e l'inizio della dittatura. Ora vediamo appunto come inizia la dittatura tramite uno di quelli che sono stati considerati uno degli atti più simbolici del passaggio della dittatura che è questo celebre discorso fatto da Mussolini il 3 gennaio del 1925. Allora noi vediamo un piccolo estratto di un film che si chiama appunto il delitto Matteotti. È un film però le parole che vengono dette dall'attore che recita nella parte di Mussolini sono le esatte parole del discorso di Mussolini di quel giorno. il mio discorso sarà quindi chiarissimo. Sono io, oh signori, che levo in quest'aula l'accusa contro me stesso. Si è detto che io avrei fondato una cieca. Dove? Quando? In qual modo? Nessuno potrebbe dirlo. Si dice il fascismo è un'orda di barbari accampati nella nazione. È un movimento di banditi e di predoni. Si insena la questione morale e noi conosciamo la triste storia delle questioni morali in Italia. Ma poi, oh signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l'arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e di tutto il popolo italiano che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno sorpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo, fuori la corda. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me è la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io ne sono il capo. Allora, quindi, dopo il discorso del 3 gennaio del 1925, quello che avete appena sentito, inizia la vera e propria dittatura fascista, il regime fascista. Perché parliamo di una dittatura e non più di un governo? Poiché il potere, tutti i poteri dello Stato sono nelle mani di una sola persona, ossia Benito Mussolini. E quando si hanno tutti i poteri nelle mani di una stessa persona si parla di totalitarismo. Inoltre, lo Stato controlla in modo totale la vita della società. Perché? Lo Stato riconosce un solo partito politico che è il partito nazionale fascista. Usa la forza di polizia per mettere a tacere le opposizioni e controlla ogni aspetto della vita dei cittadini. Quindi tutti i poteri sono nelle mani dello Stato. Parliamo dunque di totalitarismo. Quando vedremo, abbiamo già visto, accennato il potere di Stalin in Russia, quando vedremo il potere di Hitler in Germania, vedremo che il totalitarismo italiano si differenzia dal totalitarismo tedesco e sovietico. poiché quello italiano noi lo consideriamo, seppur l'invasione nella vita privata dei cittadini e l'opposizione ai nemici fosse assolutamente violenta, il totalitarismo italiano ha una particolarità. Infatti viene detto imperfetto. Poiché in realtà un potere che era al di sopra del potere di Mussolini c'era, che era quello del re. Il re è sempre stato lì e ha sempre potuto in un certo momento togliere il potere a Mussolini. Così succederà infatti nel 43, quando lo destituirà e Mussolini dovrà scappare, dando poi inizio all'occupazione tedesca in Italia. Mentre in Germania e in Russia non c'era un re. Uno perché lo Zairos era stato battuto in Russia e in Germania non c'era più il re, era diventata una repubblica. Di conseguenza ricordiamoci che il re c'è sempre e per il momento è sempre a favore delle iniziative di Mussolini. Infatti qualsiasi decisione del governo comunque doveva avere la firma del re. Nel 25, a partire dal 25, vengono promulgate una serie di leggi che ricordiamo come le leggi antifascistissime. Infatti nel 26 vennero sciolti tutti i partiti di opposizione e i parlamentari automaticamente persero la carica. Quindi venne messo fuori legge il Partito Popolare Italiano, venne messo fuori legge il Partito Socialista, il Partito Comunista e via dicendo. Vennero chiusi anche tutti i giornali antifascisti. Vedremo che l'unico, non l'unico, ma il giornale più importante diventerà il Popolo d'Italia che aveva fondato lo stesso Mussolini che inizialmente era un giornale socialista, poi divenne l'organo del Partito Fascista. Altri giornali però che erano filofascisti continuarono a essere attivi come ad esempio l'Idea Nazionale, mentre l'Avanti, il Corriere della Sera, piano piano vennero chiusi o chiudevano per un periodo poi venivano riaperti oppure definitivamente non poterono più essere stampati. Inoltre tutti i sospettati di antifascismo furono allontanati dall'amministrazione dello Stato. Inoltre fu abolito il diritto di sciopero. Ecco, la trasformazione però fu completa effettivamente solo nel 1928 quando venne promulgata una nuova legge elettorale che affidò al Gran Consiglio del Fascismo, che è un organo totalmente inventato appunto dal fascismo, che era l'organismo più importante del partito, il compito di preparare una lista unica di candidati. Di conseguenza da quel momento in poi le elezioni si svolgevano come un plebiscito. Vuoi votare la lista proposta dal Gran Consiglio? Sì o no? Non si potevano scegliere candidati né tantomeno appartenenti ad altri partiti. Le elezioni comunali vennero anche abolite e al posto del sindaco viene eletto un podestà che era nominato dal governo, quindi era chiaramente vicino alle posizioni del partito fascista. Inoltre per completare e per rendere davvero efficace la fascistizzazione della società, Mussolini si utilizzò, fece grande uso della polizia segreta. Polizia segreta che aveva il nome di OVRA, quindi Opera di Vigilanza per la Repressione Fascista, che aveva il compito appunto di cercare e arrestare gli antifascisti, ma il compito di giudicarli, quindi condannarli oppure assolverli, era affidato al Tribunale Speciale. Come si trasforma l'Italia dunque in quello che noi chiamiamo il ventegno fascista, perché va dal 22 al 43 ufficialmente, anche se poi fino a dopo la guerra gli strasci della società fascista verranno ancora sentiti. Allora, il fascismo basò il suo potere sull'organizzazione e sulla ricerca del consenso. Consenso che ottenne tramite l'eliminazione degli oppositori, quindi se non si hanno oppositori, nessuno può più dire che le cose vanno male. E inoltre anche con la ricerca del consenso di tutti gli italiani. E come attuò questa ricerca del consenso? Tramite l'organizzazione sistematica del tempo libero e della scuola, dello sport, della radio e del lavoro. Ogni mezzo serviva a far sì che gli italiani dai più piccoli ai più grandi fossero toccati dalla propaganda fascista e ne venissero poi indottrinati. Dal 37 tutte le organizzazioni giovanili furono inquadrate nella gioventù italiana del littorio, quindi la GIL. L'opera nazionale Balilla si occupava dei bambini dai 6 ai 14 anni, suddividendoli in figli della lupa erano i bambini più piccoli, quindi fino agli 8 anni. I Balilla, i maschi dagli 8 ai 14 anni e le piccole italiane, le ragazze. Cosa succedeva a questi bambini? Venivano educati alla dottrina fascista e al culto del capo, al culto di Mussolini, quindi anche del suo corpo, della sua famiglia, delle sue discendenze, con marci militari, con parate, con esercitazioni, con sfilati. Poi c'erano gli avanguardisti che erano i giovani dai 14 ai 18 anni. La scuola divenne lo strumento principale per la diffusione del regime fascista. L'inquadramento e l'indottrinatura coinvolgono tutti i gradi della scuola, anche a livello universitario, con i GUF che erano i gruppi degli universitari fascisti. A questi gruppi si poteva solamente aderire, non c'erano alternative. Inoltre tutta la scuola naturalmente fu sottoposta al controllo del fascismo, dai libri al programma. La riforma gentile del 23 aveva già introdotto l'utilizzo del libro di testo unico di stato per tutte le scuole. Cosa voleva dire? Che la scuola media di Sanpeire, ora non so esattamente se ci fosse già la scuola media di Sanpeire, comunque ogni scuola d'Italia utilizzava lo stesso libro, non c'era la possibilità di scegliere il suo libro come invece facciamo noi ora. La scuola di Sanpeire sceglie il suo libro in base ai criteri adottati dal dirigente, un'altra scuola ne sceglie un altro e quindi è possibile variare e comunque è possibile che ognuno c'è la libertà di insegnamento. All'epoca no, c'era un libro solo e quel libro bisognava studiare e quel libro parlava di fascismo dall'inizio alla fine. Tutto cambiato, non solo la storia, la matematica si insegnava, la matematica fascista e via dicendo. La figura di Mussolini era onnipresente dalla scuola al tempo libero al lavoro. Gli insegnanti essendo dipendenti pubblici dovevano avere la testa del partito per lavorare. Tra le materie l'educazione fisica veniva considerata più importante non delle altre ma molto importante perché secondo il fascismo lo sport era altamente formativo perché non solo contribuiva a creare un corpo sano e forte ma anche perché abituava alla disciplina e all'obbedienza che era il principale obiettivo del fascismo, ossia rendere il popolo italiano un popolo che obbedisce e che non trasgredisce le regole del duce, del comandante che è Mussolini. Ma oltre alla scuola ce n'erano altri di strumenti per mettere in pratica la propaganda fascista. Infatti a partire dal 1937 tutte le attività culturali furono controllate da un neonato ministero della cultura popolare che venne chiamato abbreviandolo Minculpop. Quali erano questi strumenti? La radio. Il fascismo utilizzò in modo massiccio la radio per ampliare il consenso e si rivelò uno strumento particolarmente efficace perché la radio era presente in ogni casa a differenza della televisione che era uno strumento ancora per persone più ricche. Invece nelle famiglie italiane c'era in tutte le famiglie c'era una radio. Vennero studiati un palinsesto molto molto ben delineato per indottrinare qualsiasi italiano dai bambini quindi c'erano i programmi per i bambini per gli adulti per i giovani che parlavano di fascismo, che parlavano di attualità, di storia, un vero e proprio programma di cronache del partito e del regime. Venivano diffusi i documentari, i cinegiornali, anche nei cinema e questo è il periodo in cui nasce l'istituto Luce, l'istituto che nasce come organo del partito fascista e poi diventerà invece l'organo di documentazione della RAI. La parola luce è un acrostico che venne cognata tra le tante cose da d'annunzio, come la Fiat tra l'altro, che deriva da Fiat Lux sia luce. Comunque, quindi il Tempo Libero veniva organizzato tramite radio e telegiornali ma anche nei circoli, nel dopolavoro, che erano delle organizzazioni di tempo libero in cui gli operai, i vari lavoratori si trovavano dopo il lavoro appunto e anche qua si trovava il modo per indottrinare gli italiani e convincerli dell'importanza e della positività dell'esperienza del regime. Per assistere alle madri e bambini invece ci venne creato l'OMNI, ossia l'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia. A proposito della donna, qual era il ruolo della donna? Secondo la dottrina fascista, la donna era colei che si doveva dedicare alla casa e ai figli. Doveva farne tanti di figli perché il fascismo voleva che l'Italia avesse tanti figli che potessero un giorno servire la patria. Infatti le famiglie con molti figli venivano premiate, c'era addirittura una gara, chi aveva più figli veniva premiato addirittura da Mussolini stesso. L'obiettivo, lo scopo della donna era quindi quello di procreare. Nell'immaginario fascista la donna era l'angelo del focolare, stava a casa, cucinava e serviva l'uomo e i figli. Questo è uno dei tanti esempi di manuale per la donna che si intitola appunto sposa e madre esemplare. La donna poteva essere solo quello, era la sposa quindi era di proprietà del marito ed era una madre. Le donne non potevano lavorare. Mussolini aveva una concezione della donna che era al pari di un oggetto, era qualcosa che apparteneva all'uomo e che doveva sempre solo soddisfare le sue richieste. La propaganda intervenì anche attraverso l'uso di nuovi termini e nella creazione di un vero e proprio dizionario fascista. Infatti il fascismo introdusse l'uso del voi al posto del lei perché lei era considerato troppo femminile. Alle autorità, alla maestra, agli adulti bisognava dare del voi. Introdusse nuovi termini per definire personaggi e ruoli come ad esempio la parola camerata che significa compagno, amico che invece nel periodo del regime veniva utilizzato per definire chi era iscritto al partito. La parola gerarca che in origine aveva un significato sacro come appunto era una carica religiosa, capo delle sacre funzioni, invece indicava i massimi livelli, le massime autorità del partito. E poi c'era il podestà di cui abbiamo parlato prima. Il podestà era una carica di epoca basso medievale, l'epoca dei comuni e appunto era colui che guidava il comune e durante il fascismo, il podestà era colui che sostituiva il sindaco. Inoltre ci fu una vera e propria italianizzazione dei nomi, dei nomi e dei cognomi. Coloro che avevano un cognome straniero perché vivevano in luoghi di confine, Val d'Aosta, Trentino, Alto Adige, Veneto, pensate, dovettero cambiare il loro cognome. Ad esempio il cognome Vado Pivek, sloveno, venne tradotto in bevilacqua. Da quel momento in poi tutti avevano il nome bevilacqua e i discendenti avranno poi il nome bevilacqua. Anche i toponimi, ossia i nomi dei luoghi, vennero cambiati. Sos Dutz divenne Salice Duzio, Sterling Vipiteno, poi le cose ritornarono dopo la fine del regime e molti di questi nomi o hanno mantenuto il doppio nome o hanno ripreso il nome originale. Inoltre dal 38 fu vietato dare nomi stranieri ai neonati, quindi non poteva esserci nessun Michael, nessuna Vilma, nessun John, tutti dovevano avere il nome italiano. E inoltre molti nomi che erano entrati ormai nel gergo italiano con il nome originale straniero dovessero essere tradotti. Ecco qua abbiamo qualche esempio. La brioche di origine francese divenne briosca, il dessert fine Pasqua, il pasto, il film pellicola o film, film no, filmino, l'hotel fu chiamato albergo, il menulista, oppure cose ancora più fantasiose, ad esempio il panorama, tutto che si vede perché il panorama non è con l'italiano. Garage divenne rimessa, il sandwich tra i due che poi divenne tramezzino o croissant cornetto, alcune di queste cose ormai sono anche rimaste nel nostro modo di parlare. Il picnic pranzo al sole fortunatamente non ha mai preso piede e noi lo chiamiamo tuttora picnic. Però pensate a quanto secondo Mussolini, secondo regime, fosse importante creare proprio una nuova cultura che era la cultura fascista. Naturalmente nonostante il consenso fosse obbligatorio e ci fosse il divieto di opporsi, l'opposizione al fascismo esisteva e l'antifascismo c'era e agiva per vie traverse, vie nascoste, vie che non erano alla luce del sole perché sennò sarebbero stati denunciati e probabilmente condannati. C'era l'antifascismo dunque di marca liberale che vedeva come maggiori esponenti Benedetto Croce e noi vi ricordate che l'altra volta vi ho detto che invece era stato una delle persone entusiaste all'arrivo del fascismo al governo. Ecco, cambio idea quasi subito, come d'altronde Giovanni Giolitti, Nitti, Luigi Albertini che era il direttore del Corriere della Sera. Ecco, alcuni di loro avevano inizialmente avuto simpatia per il fascismo ma soprattutto dopo il delitto Matteotti cambiarono totalmente idea. Benedetto Croce fu una delle persone che più si distinse per l'impegno fascista e all'epoca era in voga una diatriba, un vero e proprio duello tra Benedetto Croce e Giovanni Gentile che erano i due maggiori filosofi idealisti del Novecento italiano ma anche a livello mondiale. Giovanni Giolitti era fascista, è quello che ha fatto la riforma, era ministro dell'istruzione sotto Mussolini, mentre Benedetto Croce era un fervente oppositore. I due furono anche i promotori di due manifesti, Giovanni Gentile promosso nel 25 il manifesto degli intellettuali fascisti a cui deri erano persone come Pierandello, D'Annunzio, Marinetti, mentre Benedetto Croce scrisse il manifesto degli intellettuali antifascisti. Ecco, ma come mai Benedetto Croce non venne mai condannato, messo al confino o neanche minacciato dal partito? Benedetto Croce era una personalità troppo importante, aveva un eco anche all'essere, quindi qualsiasi cosa che fosse successa a lui avrebbe puntato delle luci molto negative nei confronti del partito, quindi Mussolini si guardò sempre dal minacciare Benedetto Croce di qualcosa. Lui riuscì sempre ad essere libero proprio perché Mussolini e i suoi sapevano benissimo di quanto fosse una personalità troppo importante per essere toccata. L'antifascismo però si distinse anche tra le file democratiche, quelle più di sinistra, socialiste. Ad esempio Giovanni Amendola e Piero Gobetti pagarono con la vita il loro dissenso, furono uccisi dai fascisti. I democratici credevano che solo la collaborazione tra la classe operaria e la borghesia avrebbe potuto combattere il fascismo, infatti a questa prospettiva lavorò il gruppo fondato a Parigi, quindi erano già fuoriusciti dall'Italia, il gruppo di giustizia e libertà che era composto dai fratelli Carlo Enello Rosselli, Emilio Russo, Gaetano Salvemini. Gaetano Salvemini ve lo ricorderete perché era uno di quelli che aveva criticato Giolitti nel suo modus operandi nei confronti del sud e l'aveva definito addirittura il politico della malavita. Quello Gaetano Salvemini fu uno dei tanti antifascisti. Nel 1937 i fratelli Rosselli, sempre a Parigi, furono assassinati. Mussolini mandò dei sicari e li uccidero. Nel 1942 una parte dei militanti sopravvissuti di giustizia e libertà fonderà il Partito d'Azione, che ebbe poi un ruolo fondamentale nella guerra di liberazione, nella Seconda Guerra Mondiale e nella costruzione della Repubblica Italiana. Ne parleremo quando sarà a tempo debito. Tornando alla politica di Mussolini durante il regime, durante la dittatura, non possiamo non citare i patti lateranensi. Ne abbiamo già parlato perché ne abbiamo accennato quando abbiamo affrontato il discorso di Pio IX dopo la breccia di Portapia nel 1871 e dopo il non-expedit. Quindi è della fine dei rapporti tra Stato e Chiesa, tra lo Stato italiano che diventava davvero uno e la Chiesa che non l'aveva mai riconosciuto, neanche poi con l'avvicinamento dovuto al patto Gentiloni all'epoca di Giolitti, neanche poi col Partito Popolare Italiano. Bene, Mussolini si è reso conto che era necessario mettere sul tavolo una trattativa con la Chiesa perché l'appoggio della Chiesa avrebbe giovato molto alla politica di Mussolini. Vi ricordate che quando abbiamo visto brevemente la biografia di Mussolini, lui all'inizio almeno non negava mai di dichiarare di essere fortemente anticlericale e ateo e infatti probabilmente non cambiò mai idea ma si è rese conto di quanto fossero necessari per lui dei rapporti positivi e buoni con la Chiesa. Infatti già a partire dal 26 Mussolini iniziò delle trattative segrete, trattative segrete che sfociarono poi nel 29 nei patti lateranensi firmati da Mussolini e dal cardinal Gasparri che era il segretario di Pio XI. Furono firmati l'11 febbraio del 29 nel palazzo del Laterano e da questo presero il nome dei patti lateranensi. Cosa firmarono? Ecco, con i patti lateranensi l'Italia riconobbe la sovranità della Chiesa sullo stato indipendente della città del Vaticano. Ecco che qui nasce lo stato di città del Vaticano, stato indipendente, che quindi non era sotto il controllo del re, ma è una monarchia tuttora città del Vaticano ed il re di città del Vaticano è il papa. Inoltre il cattolicesimo fu riconosciuto come sola religione di stato da insegnare obbligatoriamente in tutte le scuole pubbliche. L'introduzione della religione nelle scuole non risale ai patti lateranensi, ma già alla legge Casati, quindi parliamo dell'inizio dell'epoca dell'unità d'Italia, ma all'epoca si parlava dell'insegnamento della religione nei primi due anni di scuola, anche perché erano obbligatori solo i primi due anni, ma non c'era una vera e propria ora di religione. Questa fu introdotta durante il regime fascista, quindi nel 29 coi patti lateranensi. Se oggi noi a scuola facciamo un'ora di religione, è dovuto all'introduzione dei patti lateranensi e poi ancora dal successivo concordato stato chiesa, poi già in epoca repubblicana. Comunque l'obbligatorietà risale al 1929. Inoltre ha una cosa ancora più importante l'equivalenza del matrimonio religioso con quello civile. Da quel momento in poi chi si sposa in chiesa, e succede tuttora, si automaticamente sposa anche in comune, perché il rito religioso, alla fine del rito, si firmano anche le carte per il rito civile. Non si può fare solo il matrimonio religioso e non quello civile. È una cosa unica. Mentre si può fare solo il matrimonio civile e non quello religioso. Ecco, questo naturalmente sia ben chiaro. Cosa fa il Vaticano in cambio? Riconosce il Regno d'Italia e la sua capitale, Roma. Quindi da quel momento in poi lo stato della chiesa, quindi il Papa, dice ok, l'Italia esiste e Roma è la sua capitale. Fino a quel momento, no, dal 61 e poi dal 71 dalla breccia di Portapia, quando Roma diventa capitale d'Italia, fino al 29 i papi non avevano riconosciuto Roma. Nel 29 Pio XI riconosce Roma capitale. Molti cattolici sapevano benissimo, come vi ho detto prima, che in realtà Mussolini non fosse realmente un cattolico fervente. Anzi, Don Luigi Sturzo, il fondatore del Partito Popolare Italiano, che era stato messo fuori legge nel 26, così scrive, così commento. Ai fascisti torna vantaggioso mostrarsi cattolici e proclamare i diritti della religione. Ma è ben noto che nel complesso né la loro concezione di vita né il loro ideale di Stato hanno nulla a che vedere con il cattolicesimo come religione e come morale. Essi vogliono lo Stato appoggiato dalla Chiesa, ma da una Chiesa che serva e non domini, che aiuti e non domandi. Quindi, quello che vi avevo accennato prima, era già stato pensato e detto da Don Luigi Sturzo. Mussolini fa questo patto non per reale vicinanza degli ideali del fascismo con quelli del cattolicesimo, perché il fascismo era basato sulla violenza fin dall'inizio e la Chiesa abborre la violenza, ma perché gli conveniva avere un alleato così potente. Parlando invece di economia, vediamo come si sviluppa la politica economica del fascismo. In un primo momento il fascismo è favorevole all'iniziativa privata e al libero mercato, quindi sviluppa una politica di tipo più liberista, perché non voleva perdere l'appoggio degli industriali e dei proprietari italieri. Però nel 1926 c'è un cambio di direzione netto. Lo Stato inizia a intervenire sempre di più nella vita economica degli italiani, ma la scelta è dovuta all'esigenza di affrontare vari problemi di tipo economico, ad esempio la perdita di valore della lira. Per arrestare la svalutazione della lira si cercò di limitare le importazioni. Ecco il perché nasce la battaglia del grano. Cos'era la battaglia del grano? L'invito a tutti i contadini italiani a cercare di produrre sempre di più, sempre di più per poter avere più grano da vendere agli italiani senza dover andare a cercarlo all'estero. E' qui che inizia la vera e propria politica autarchica. Cosa vuol dire autarchia? Bastare a se stessi. Quindi l'Italia doveva produrre per l'Italia. Tutto ciò che serviva all'Italia doveva essere fatto in Italia. L'Italia doveva diventare economicamente autosufficiente. Il problema però è che l'Italia fosse molto arretrata, soprattutto al sud. E la politica, la propaganda fascista cercò di convincere gli italiani della necessità dell'autarchia. Cioè non volevano, come veniva attuata l'italianizzazione nella cultura, nei nomi, doveva essere attuata l'italianizzazione anche sul fronte economico. Non doveva essere acquistato nessun prodotto straniero. Per questo il regime invitò gli italiani a raccogliere e recuperare tutto. Anche dei rottami di ferro e addirittura consegnare alla patria l'oro. A un certo punto fu lanciata l'idea di, che era obbligatoria, di dover donare le proprie fedi alla patria. Donare l'oro che si aveva a casa per fare un regalo, per contribuire all'economia dell'Italia e molti lo fecero. Chi riuscì a nascondere le fedi non venne beccato, ma tutti gli altri dovettero consegnare le fedi inuziali a Mussolini. Inoltre, per favorire lo sviluppo dell'agricoltura furono bonificate molte aree. Ad esempio, l'intervento più importante fu quello nell'agropontino, dove fu costruita una città nuova, quella di Littoria, che si chiamava Littoria, ma che poi, dopo la fine del regime, fu cambiato il nome in Latina, l'attuale Latina. Il fascismo fece molta propaganda con i risultati di queste opere, anche se in realtà l'autarchia non fece altro che indebolire ulteriormente l'economia italiana. Infatti l'Italia rimase ancora più arretrata di prima. Si pensi che, per fare qualche esempio, nel 1938 in Italia c'era una automobile ogni 100 abitanti. In Inghilterra, nello stesso anno, ce n'era una ogni 20. E in Francia, sempre nel 1938, in Italia c'era un telefono ogni 70 abitanti, uno ogni 13 in Inghilterra e uno ogni 27 in Francia. Nel 1938 il reddito medio di un italiano era la metà di quello francese, un terzo di quello inglese, un quarto di quello statunitense. Quindi vuol dire che un italiano a parità di lavoro prendeva la metà di quello che prendeva un francese e un quarto di quello che prendeva uno statunitense. Questo vuol dire che l'economia era messa, era quasi in ginocchio. Parliamo ancora del corporativismo. Durante il fascismo, infatti, lo Stato intervenne anche nei confronti delle banche e delle industrie. Nel 1929, quando gli effetti, poi parleremo anche della crisi, del crollo della banca di Wall Street in America, che avvenne nel 1929, ecco, quando piano piano gli effetti iniziarono a farsi sentire anche in Europa. Allora, come reagì il fascismo? Nel 1931 creò l'IMI, l'Istituto Mobiliare Italiano, che aveva il compito di sostituire le banche in crisi nel finanziamento dell'industria. Inoltre, nel 1933 fu creato l'IRI, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale. Cioè, con l'IRI, l'IRI poteva acquistare, utilizzare le risorse dello Stato per comprare azioni delle industrie in crisi, rendendo così di fatto una buona parte di industrie statali. Quindi, lo Stato acquistò molte industrie che stavano andando in crisi, stavano fallendo. Però, i costi della crisi dell'industria ricaddero, soprattutto sugli operai. Infatti, nel 1939, già abbiamo visto quanto fosse basso lo stipendio di un operaio, inoltre, si abbassò ulteriormente. Se leggiamo che nel 1939, il salario di un operaio era inferiore rispetto al 20%, rispetto a quello del 21%, quindi di prima che Mussolini salisse al governo. Di pari passo col corporativismo, però, si cancellarono i diritti dei lavoratori. Infatti, non avendo più il diritto di sciopero, e non potendosi più riunire in sindacati liberi a partire dal 26, perché era stato creato un unico sindacato, che era quello fascista, i lavoratori non avevano più mezzi per poter contrastare questa situazione, non potevano ribellarsi. Il fascismo condannava lo sciopero e la lotta di classe. Infatti, secondo Mussolini, l'unica strada era quella di collaborare. I datori di lavoro e i lavoratori dovevano collaborare e moderare le pretese. Questa posizione si chiamava corporativismo. Infatti, era realizzata attraverso corporazioni, che erano delle organizzazioni di lavoratori e imprenditori appartenenti allo stesso settore economico. Quindi c'era quella siderurgica, quella meccanica, quella alimentare, quella chimica. Ok. Le corporazioni avrebbero dovuto affrontare e risolvere i problemi in uno spirito di collaborazione. Peccato che non funzionarono, perché servivano solo a tenere basso il costo del lavoro. Queste corporazioni non affrontavano davvero i problemi, perché i problemi venivano messi a tacere. Se un operaio voleva lo stipendio più alto, ma l'imprenditore non glielo poteva dare, lo stipendio rimaneva tale e quale. Ok. Per oggi ci fermiamo qui. Continueremo la prossima volta con la politica estera dell'Italia, la politica di conquista, che ha bisogno di più tempo per essere analizzata. Quindi, rivedetevi queste slide che vi lascio anche in PDF. Se avete dei dubbi, poi ne parliamo in video chat. e il compito di questa settimana consiste nel realizzare degli schemi o delle mappe concettuali, dei risulti, quello che più è congeniale a voi, per poi poter studiare meglio. Quindi, non è un compito che fate per farmi contenta a me, ma è un compito che fate e che dovete farmi vedere. Però, serve a voi, perché fate e che dovete farmi vedere.